E' uno schifo, che c'è lì? Di tutto? Ci sono rifiuti di tutti i generi. Che zona siamo? Fonte Fracassi, qua siamo proprio al ridosso del centro abitato, comunque in un'area abbastanza naturale. Copertoni di macchine, insomma proprio una discarica, al di là di questi scarti di taglio che comunque insomma non penso che vadano così mischiati in mezzo alla plastica. Questo è amianto, amianto completamente sgretolato, quindi nella sua forma più pericolosa, perché l'amianto diventa pericoloso proprio quando si sgretola. Lasciato nell'ambiente in questo modo, insomma siamo sì, nel penale, insomma sappiamo le conseguenze dell'amianto ormai dell'esposizione all'amianto sono chiare. C'è anche cose comunque probabilmente molto inquinanti, perché questo sembra proprio il contenitore di un qualcosa di chimico, insomma. Questo è vernici per legno, quindi sicuramente è molto inquinante. C'è uno che passa qua e dice, ah vabbè è una zona in cui si scaricano rifiuti, no? E magari amplifica questo effetto, c'è là ci stanno reti, comunque è una discarica. Grazie. Grazie.